Certo, non chiede a te, non troppo. Nei, non ti faccio avanti di sicuro. Ma come lo chiedo, no, lo faccio. Io, io sempre arricchiamo. Nessuno mi chiama. Ma chi mi chiede nulla? Conosciamo i vostri metodi. Ma se si va alla città, parla dei vostri trucchi. Mi fate la mia dignità di arrivare con voi. Io non parlo per il mio divertimento, io... Venite, vi voglio invece presentare l'imperatore. No! Io chiedo che signora possa aiutare anche a me. Qui ti esclude l'uomo della strada? No! Ma sai, italiani, signori, come primo a prendere la parola e con l'invento del bere che vi presento il rettore di New York City, italiane, amadissimo dall'intera contraterra, il signor Kider! Magnifica imperiale famiglia, onorevole congresso, il cotone e la lana alcoli, si raccoglie dalle bombate, e io ho reso di chiare con voglia e fiori e vedi che il cuore di situazione sui punti e tirami. Si tratta di una massa dall'aspetto di un'opportunità di modi che si tratta nella maggior parte dei casi. Grazie. Grazie. Grazie.